Era una persona semplice che si dava agli altri e mi sembra che questo sia il posto giusto per ricordarlo perché il centro della nostra vita sono i bambini e l'infanzia di ognuno di noi. E' stato dedicato ad Angelo Vassallo, sindaco di Pollica e il giardino di Villa Silos, sede della cittadella del bambino nella zona 167 del comune di Bitonto. Un modo per ricordare, lì dove si svolgeranno attività avvolte all'antimafia sociale, il sindaco pescatore barbaramente ucciso la sera del 5 settembre 2010 mentre rincasava alla guida della sua auto. Oggi siamo in un mondo dove i simboli hanno grande importanza e quindi anche a Bitonto intitolare un giardino, una struttura ad Angelo è molto importante perché si persegue la ricerca della verità anche attraverso questi eventi e queste manifestazioni perché servono per avvicinare le nostre culture, le culture della legalità e tutti assieme probabilmente arriveremo a chi ha ucciso Angelo. Ancora dopo nove anni infatti la famiglia Vassallo cerca non solo i killer ma anche il movente di quell'omicidio. Il fratello Dario sta conducendo una battaglia da nove anni con tutta una serie di amministratori locali che furono colpiti prima nel Cilento poi in tutta Italia dalla storia di Angelo Vassallo che poi è stata raccontata anche sui media e con opere artistiche come film e opere teatrali. È stata ribadita inoltre l'importanza dell'educazione civica e dell'antimafia sociale come materia di studio per le giovani generazioni. L'educazione civica come l'educazione della salute sono due battaglie ormai che portiamo a livello nazionale con gli altri garanti regionali. Su questi timi riportare l'educazione della salute e l'educazione della salute nelle scuole come materia fondamentale come l'italiano, la storia, la geografia, la matematica, credo che sia strategico per poter sviluppare un progetto nuovo anche di un cittadino più moderno e più sintonia con il proprio territorio. L'occasione è stata propizia per scoprire assieme ai familiari anche una targa in memoria di Franco Sannicandro, artista bitontino noto a livello internazionale per le sue opere, scomparso nel febbraio 2018. Le sculture, nate durante un simposio con altri 11 artisti internazionali, adornano il rinnovato giardino di Villa Silos e resteranno lì a perenne memoria.